ciao a tutte e buon inizio settimana allora come promesso oggi realizzo per voi questo video molto molto da vicino ok proprio per farvi vedere come io applico l'eyeliner altrimenti c'è non riuscivo a trovare nessun altro modo per farvelo vedere ho applicato solo ed esclusivamente un filo di mascara un primer sull'occhio il mascara l'ho messo leggermente prima perché così do una sorta di tridimensionalità al mio occhio e li do un pochino più di vita faccio sempre questa piccola accortezza prima di mettere l'eyeliner perché mi aiuta ad avere un risultato davvero migliore allora vi faccio vedere innanzitutto cosa dovete prendere dovete prendere un eyeliner così questo qui è di wicon eccolo qua ed è il my drama eyeliner perché questi tipi di eyeliner ve l'avvicino un po di più in camera perché questi eyeliner vedete che hanno una punta molto rigida ma soprattutto hanno una punta lunga ed è quello che ci serve a noi quando siamo principianti ok sto facendo il video ovviamente per i principianti per quelle persone che non sanno come metterle quindi vi faccio vedere una possibile tecnica delle tante che potete andare a mettere in pratica per mettere l'eyeliner quindi dicevo per chi è principiante ci vuole questi tipi di eyeliner qua setola rigida lunga che tracci fin da subito o quasi da subito una sorta di riga seguitemi che veramente è facilissimo allora innanzitutto con l'occhio aperto andate a posizionare partendo dal centro dell'occhio l'eyeliner e lo appoggiate vedete che è lungo il pennellino lungo la rima facendo dei piccoli trattini ok non importa se non è precisissimo quello che conta è tracciare una linea quindi continuo ad occhio aperto vedete appoggio e lui mi segna già una sorta di lineetta che è bella aderente all'occhio vado di qua vedete ripeto non importa che non è preciso quello che conta è tracciare una linea guida per l'occhio chiudete leggermente l'occhio vi guardate nello specchio se c'è bisogno e intanto avete fatto una sorta di righettina che dopo andremo a vedere la perfezioneremo come faccio adesso a creare la mia coda perché è principiante sconsiglio vivamente di fare questo perché questo vi porta in confusione perché chiaramente non avete ancora la manualità per poter fare diciamo una riga come magari adesso faccio da sola che in un secondo mi creo la linea ma perché è una manualità un'esperienza come faccio vado a vedere la distanza che ho dalla fine del mio occhio al sopracciglio e posiziono la punta del mio eyeliner vedete proprio nell'angolino qui vedete in direzione del mio sopracciglio vedete che si crea una sorta di strada ok non importa ripeto che non sia precisissimo però quello che conta è direzionare la linea del nostro eyeliner ok a questo punto posso con il mio pennello col mio pennarello andare a riprendere la mia lineettina vedete che ho attracciato allungarmi leggermente e mi fermo qui riprendo il mio pennarello e faccio un altro triangolino non importa se non è preciso ve lo ripeto ok e tiro verso l'interno do l'occhio e inizio vedete a unire le due parti riporto la linea qui vado a passare con la penna il bordino superiore quindi a ridefinirlo vedete che piano piano sta avvenendo l'eyeliner ok e che cosa faccio vado a perfezionare questa parte qui vedete riposizionando il mio eyeliner al contrario cerco di farvelo abbastanza ravvicinato lo dovete fare per gradi perché se lo fate ok a questo punto qui che cosa faccio continuo e vado ad unire l'angolino con il sotto a questo punto con una spugnettina con un pochino di correttore ok vado a applicare correttore al di sotto del mio occhio e vado a pulire vedete la mia riga di eyeliner quindi vado a pulirla vado a insistere un attimino ancora sulla sull'angolo interno qui ecco in questo modo qui è venuto meglio vedete e poi adesso vado a prendere il mascara e vi faccio vedere come lo metto a questo punto vado a dare il mascara e inizio vedete a dare volume alle mie ciglia portate verso l'esterno pronti vi saluto e spero che vi sia stato utile ciao